Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi su Call of Duty Black Ops 2 in particolare sulla nuova mappa zombie rilasciata proprio quest'oggi su Xbox Live la mappa si chiama Origins e fa parte del nuovo DLC, l'ultimo DLC che verrà rilasciato per Call of Duty Black Ops 2 oggi video molto breve, vi introdurrò le prime fasi del gioco, dove trovare il Juggernaut, dove trovare la cassa e poco altro iniziamo subito col metodo nuovo per la corrente ci sono questi convertitori che troveremo la prima parte sparsi per la mappa in 6 aree specifiche noi dovremo azionarli pagando 200 crediti e resistere all'interno di quest'area facendo particolare attenzione a questi zombie che spawnano una volta attivato si sbloccherà, in questo caso il Quick Revive ma nelle altre zone altre macchine perc uscendo da questa porta che costa 500 crediti andremo a scoprire dove si trova la cassa cassa che si trova in questa zona, zona abbastanza ampia, c'è una parte superiore e una parte inferiore per attivare la cassa anche qui convertitore, dovete resistere anche qui all'interno di quest'area è importante perché sennò non sale il livello di carica che vedete comunque indicato a schermo particolare attenzione sempre a questi zombie corazzati e anche agli altri zombie perché se vi accerchiano è abbastanza dura soprattutto al primo round resistere con questa pistolina una volta attivata si attiverà la cassa, cassa che ha nuove armi, come in tutte le mappe ci sono nuove armi in questo caso ho trovato che sono armi già con alcuni piccoli potenziamenti ad esempio la K74U che io ho trovato aveva già il caricatore aumentato quindi una cosa sicuramente apprezzabile ora seguite queste indicazioni per giungere nella seconda parte della mappa la mappa centrale che costruisce il cuore della mappa mappa davvero ampia, ci sono ampie possibilità di movimento ma state attenti è un movimento fasullo, infatti vi raccomando di camminare sulle passerelle di legno altrimenti verrete rallentati notevolmente e sarete facile preda degli zombie qui vedete il sangue di zombie, una nuova aggiunta in questa mappa mi ricorda un po' il vulture raid in particolare quando entravate in quella specie di gas che rilasciavano gli zombie che vi dava la possibilità di non essere colpiti per qualche secondo qui è molto simile, infatti non verrete colpiti dagli zombie ma dura molto di più e inoltre vi muoverete a una velocità superiore intanto siamo andati nella quarta zona, nel quarto settore dove c'è il jugonaut, il jugonaut che è davvero fondamentale in questa mappa cercate di andarlo a prendere nei round più bassi io l'ho attivato subito perché dopo diventa davvero davvero difficile resistere agli zombie una volta sbloccato come sempre il convertitore potete avere accesso al jugonaut, 2500 crediti, nulla di nuovo ultima cosa, il perca cola, nuova aggiunta anche questo 1500 crediti è sempre nella zona del jugonaut basterà premere, attivarle, pagare 1500 crediti e vi regaleranno una bibita casuale tra tutte quelle presenti nella mappa in questo caso a me era venuta la ciliegia di Mob of the Dead bene ragazzi, con oggi abbiamo concluso se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale noi ci rivedremo domani, questa volta con un video di FIFA e i video di Call of Duty comunque anche domani avrete una piccola sorpresina ciao a tutti